buonasera questa sera vi voglio parlare dei nuovi balsami labbra della yves rocher nuova formula green a base di oli e cere di origine naturale quindi il 97 per cento degli ingredienti sono i balsami labbra ci sono due novità due quindi due fragranze sono la novità mentre quattro sono le solite fragranze allora questi tre non sono colorati quindi c'è cocco che ha una leggera fragranza di cocco e non è colorato karité è molto idratante per labbra molto secche e scripolate tre balsami labbra colorati sono lampone che c'era colora le labbra leggermente e poi queste sono le due novità che mango e poi c'è mora adesso ve li faccio vedere aperti allora mango se si può vedere è un color arancio acceso però essendo un balsamo labbra questo è mora come potete vedere colora leggermente le labbra però nello stesso momento le idrata ecco qua anche questo colore leggermente ovviamente nello stesso momento idrata di labbra idratate e colorate questi balsami labbra sono in offerta dove metto il volantino dell'offerta fino al 14 aprile quindi se volete per lì basta contattarmi a presto a presto